La vita non è che la collezione di piccole vite ciascuna vissuta un giorno alla volta. La massima d'apertura è di Nicholas Sparks. Lui è autore di diverse novelle, di diverse cose. Tra cui appunto The Notebook. Ora mi sfugge il titolo in italiano ma lo potete rinvenire nella descrizione. Io ero solito credere, pensare che leggere le novelle, leggere i romanzi era una perdita di tempo. Ma non dipende mai dallo strumento, dipende sempre tutto da noi. E' l'uso che facciamo di quello strumento. Quindi con l'ingresso del vlog odierno vorrei condividere con voi alcune delle cose che ho estratto dalla lettura di questo romanzo, completato qualche giorno fa insieme a mia moglie. Now, I tend to dedicate the majority of my time to my personal and professional development, to the increase of our automatic income and so forth and so on. But life is much more than habits and skills and numbers. It's all about relationships and emotions mainly. So I decided that I would give some time and thoughts to a book like this one. Quindi normalmente io dedico la maggior parte del mio tempo alla mia crescita personale, la mia crescita professionale, all'incremento di entrate automatiche. Però poi mi rendo anche conto che questi sono soltanto alcuni aspetti della vita. Ci sono cose ben più importanti come i rapporti, le emozioni. E quindi ho deciso che avrei dedicato un po' di tempo a una lettura che può essere percepita come più semplice rispetto alle altre, come questa. Because then there aren't things that are more important than others. It all depends on our priorities. But it's only a matter of finding harmony in between the things that we want to dedicate ourselves to. Perché ritengo che non ci siano cose più o meno importanti di altre. Dipende tutto dalle nostre priorità. E quindi tutto sta nel trovare la giusta armonia fra le cose a cui vogliamo dedicarci. So here the author says Life is simply a collection of little lives. Each lived one day at a time. Quindi tornando alla massima d'apertura qui, l'autore dice che la vita non è che una collezione di piccole vite ciascuna vissuta un giorno alla volta. Quindi qui l'autore dice che ciascun giorno dovrebbe essere speso alla ricerca della bellezza nei fiori e nella poesia. E parlando con gli animali. Ora io non penso che la maggior parte del nostro tempo debba essere alloccata in questa maniera. Ma sicuramente è opportuno trovare un bilanciamento, un equilibrio, un'armonia fra le cose più materialistiche e le cose più astratte. Come la bellezza, l'armonia. That is also why I miss so much to go back home and enjoy my family farm. Questa è una delle ragioni probabilmente per cui mi manca così tanto il tornare a casa e godermi la nostra azienda di famiglia. Where I grew up among my thousand olive trees and the animals and all. Quindi sì, dove sono cresciuto poi, tra le mille piante d'olivo e i vari animali, eccetera. So, a day spent dreaming and sunsets and refreshing breezes cannot be battered. It is awesome. But again, I need to read these things because in Florida, where we live, there are awesome, breathtaking sunsets. Yet I don't remember when my wife and I took the time to go out and enjoy one. Quindi qua dice che un giorno speso sognando fra i tramonti e le rinfrescanti brezze di vento, ovviamente, non può essere migliorato. Cioè non c'è niente di meglio di queste cose. E è stranissimo, cioè io ho bisogno di leggere queste cose perché alle volte non do valore a quello che abbiamo a portata di mano, al nostro presente. Cioè con mia moglie non ricordo da quanto non andiamo a vedere un tramonto sul mare. Eppure viviamo in Florida dove i tramonti sono davvero mozzafiato. Tutta una questione di priorità. Quindi ho bisogno di libri come questo per ricordarmi che abbiamo già tutto quello che ci serve. C'è semplicemente da riconoscere e da apprezzarlo. But most of all, I learned that life is about sitting on benches next to ancient creeks with my hand on her knee and sometimes on good days for falling in love. Bellissimo. Fantastic. It's awesome. It's awesome. It doesn't really take much to be happy and enjoy what we already have, especially when we have the privilege to enjoy the here and now, the present, with the people that we love. So it's a privilege we should never take for granted. Quindi dice, ma la cosa che ho imparato più di tutte è che la vita è a proposito del sedersi su panchine vicino a torrenti anziani con la mia mano sul suo ginocchio e alle volte nei giorni buoni per innamorarsi ancora. È straordinario. straordinario perché è la semplicità delle cose, è rendersi conto di quel che già abbiamo, che ci permette di dare più valore al presente, all'adesso, al qui, ora. E soprattutto per chi, come mia moglie ed io, abbiamo il privilegio di poter godere il presente insieme alla persona che si ama di più. Quindi, sì, questi libri sono, per quanto possano essere astratti, sono davvero preziosi se abbiamo la volontà di estrarne il messaggio che l'autore vuole convenirci. So what I was saying is that although these books might be fantasy book, abstracts, you know, it's all up to us to have the willingness to understand and get out the message that the author was at the intention to share with us. The intent of today's vlog is not to spoil the awesome love story that I invite you to read and watch the movie if you want to, but watch the movie only after you read the book, because of course they made a movie out of the book. But it's simply that I desire to share some of the thoughts that I thought while I was reading the book. Quindi l'obiettivo della vlog entry odierna non è quella di andare a dar via la storia d'amore, no, raccontare la storia d'amore racchiusa nel libro bellissimo che vi invito a leggere e o a guardare il film. Anzi, guardate magari, perché ovviamente hanno fatto un film sulla base di questo libro, ma vi invito a guardare il film dopo che avete letto il libro. L'obiettivo, dicevo, di questa vlog entry è semplicemente di condividere alcuni dei pensieri che ho pensato appunto mentre leggevo alcune di queste pagine. So, here we go. We sit silently and watch the world around us. Quindi, giusto per darvi un'idea, ci sediamo in silenzio e guardiamo il mondo attorno a noi. This has taken us a lifetime to learn. Questo ci ha richiesto una vita per imparare quest'arte e di semplicemente ascoltare e guardare il mondo attorno a noi. It seems only the old are able to sit next to one another and not say anything and still feel content. Awesome. It is an art. It is an art to appreciate each other's company and appreciate the present without having to do anything else. Just feeling each other's presence. Awesome. Quindi, sembrerebbe che soltanto gli anziani hanno l'abilità di sedersi uno vicino all'altro e non dire nulla. E semplicemente sentirsi felici, contenti. Effettivamente è un'arte, è un qualcosa che va appreso la possibilità di semplicemente godersi la compagnia reciproca senza dover arricchirla con commenti. Semplicemente sentire la felicità dell'essere insieme. This is something that I tried to explain with my parents when they were here and at times we were having breakfast outside and they were saying why don't we do this, why don't we do that or why do you always have to break the silence or do something? It's awesome just to be together. So, alle volte questa conversazione è emersa anche quando i miei genitori erano qui a visitarci qualche mese fa dopo che non ci vedevamo da un anno. E eravamo fuori a fare colazione magari o a leggere accanto agli altri. Perché non facciamo questo? Perché non facciamo quello? O veniva fuori un commento e diceva perché sentite sempre il bisogno di dover fare qualcosa o di rompere questo bellissimo silenzio? Alle volte si può stare insieme senza il dover fare qualcosa o il dover dirci niente. Semplicemente godendoci la presenza, le vibrazioni reciproche, no? At times it's just awesome to enjoy each other's vibrations. The young, brash and impatient, must always break the silence. It is a waste, for silence is pure. Silence is holy. It draws people together because only those who are comfortable with each other can sit without speaking. This is powerful, this is powerful if you want to give it the right attention, if you want to dig into it, if you want to read in between the lines. So diceva qui nella parte che ho appena letto in inglese che dice i giovani che sono sempre impetuosi e impazienti devono sempre rompere il silenzio. E' uno spreco perché il silenzio è puro, il silenzio è santo. It draws people together, dice avvicina le persone, porta le persone insieme perché soltanto coloro i quali stanno, sono comfortable, stanno bene insieme, possono sedersi senza parlare. Cioè queste sono cose bellissime, preziosissime. Se vogliamo dar loro il tempo, dedicare a questi spunti l'attenzione e il tempo di sviscerarle ed apprenderle leggendo quel che è scritto tra le righe, diciamo. Anyhow, guys, thank you very much for the time you've dedicated to today's vlog and I'll see you on the next one. Comunque, chiudiamo quello che è il vlog odierno. Vi ringrazio per il tempo che avete dedicato a questo ingresso odierno e ci vediamo alla prossima. Be better with books, improve your thinking by reading to improve. To find out more about how we can be of help, text or call us at 727-366-6916 or send us an email at the email address you see in the photo.